La squadra sta cercando di portare avanti il suo programma, muovendo l'attenzione su una sfida così difficile, così impegnativa e capire se Carlos potrà essere in qualche modo di supporto per garantirci di avere maggiori possibilità in una partita dove sappiamo che i nostri avversari saranno capaci di crearci grandi difficoltà, come è un po' caratteristica nel loro stile. Il loro record di vittorie parla chiaramente, non soltanto in Italia ma anche in Europa e soprattutto nelle partite casalinghe sono stati capaci di centrare una striscia di vittorie considerevole. Non parliamo di problematiche alle spalle oppure di futuro roseo che vediamo, concentriamoci sul quotidiano, cerchiamo di dare valore al lavoro, cerchiamo di dare valore allo sforzo di ognuno per cercare di trovare un adeguato rendimento per una squadra costretta a ribellarsi alle situazioni in un campionato così duro e così difficile. Che non dà spazio, non dà tregua. Ad oggi ci riconosciamo semplicemente il merito di aver leggermente alzato l'asticella delle aspettative per quelle squadre che come noi dovranno lottare per rimanere in questo campionato. Forse, sai, si era parlato di Pesaro come una squadra condannata a questa condizione e adesso questa è una condizione che abbraccia più squadre e come detto, forse a squadre come noi e Varese, che come noi è stata capace di vincere due partite consecutive nei turni precedenti, va riconosciuto semplicemente il merito di aver alzato leggermente questa barra, questa asticella, niente di più.